Giornata di fessa e di orgoglio per la città di Castellamonte, per i festeggiamenti a una centenaria di frazione Spineto. Assolutamente sì, grazie per essere venuti intanto a voi, siamo stati invitati a questa festa, ci siamo venuti molto volentieri e siamo assolutamente orgogliosi di avere una centenaria in più nella città di Castellamonte, significa che insomma a Castellamonte si vive bene e si sta bene, in questo caso a Spineto si vive bene e si sta bene, quindi siamo felici per la signora, per la famiglia e per tutti gli invitati. L'amministrazione ha voluto consegnare una targa alla signora? Certo, abbiamo consegnato una targa che era al minimo per una persona che compie cent'anni, la cosa bella è sapere che questa donna ha vissuto in una comunità che l'ha amata, che è stata rispettata e ancora oggi sono tutti qui a dargli onore di quello che è stato, perciò una comunità che continua a vivere e che insieme a lei per noi è importante, vuol dire tanto, veramente. Grazie per la visione!